Erdin, una partita da dentro fuori, una partita che vi mette pressione, è il primo bivio della stagione vera? Sì, lì in Germania è stata una partita difficile, in un palazzetto un ambiente particolare, quindi secondo me abbiamo fatto fatica ad entrare nella partita, abbiamo preso due set, è stata una cosa importante e adesso ci prepariamo per andare a prendere la vittoria domani. Sì, perché ci sarà questa volta un ambiente particolare a vostro favore? Sì, sì, certo, certo, anche perché abbiamo bisogno, abbiamo bisogno, è una partita come hai detto tu dentro fuori, l'anno scorso siamo caduti a questo momento, quindi abbiamo veramente voglia di passare questo torno. Ecco, ti chiedo appunto se c'è il ricordo di quello che accade l'anno scorso con Tour, se è un pensiero che funziona anche un po' da lezione magari. Sì, certo, ne abbiamo parlato dopo la sconfitta che è successa la stessa cosa e non abbiamo voglia di rifare quello, farlo passo.